Sta agitando le acque, già peraltro piuttosto mosse del centro-sinistra toscano, la candidatura dell'ex premier Giuseppe Conte alle elezioni suppletive di Siena per la sostituzione in Parlamento dell'ex ministro Piercarlo Padoan, che con la presidenza di Unicredit ha lasciato la Camera. La mossa rientra nella logica di rinsaldare l'asse politico PD 5 Stelle. Conte l'ha garantita al governo per più di un anno e ora potrebbe trovarsi senza una collocazione immediata. La situazione toscana però è molto complicata e il collegio senese storico Fortino Rosso avrebbe già tirato le mire, oltre che dell'ex governatore Enrico Rossi, anche del capogruppo DEM in Regione Vincenzo Ceccarelli. In questo momento abbiamo altre priorità, ha commentato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva. Il destino personale del presidente Conte francamente non è la priorità in questo momento. prima viene il paese, prima vengono gli altri 60 milioni di cittadini italiani. Ma se la reazione di Italia Viva era nell'aria, quella del PD ha fatto decisamente più rumore. Le decisioni calate dall'alto non vanno bene, ha commentato il segretario regionale Simona Bonafè. Le candidature nei seggi toscani devono essere decise insieme ai territori. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, il quale ha precisato che avrebbe visto molto meglio Conte, candidato sindaco di Roma, per il prestigio politico e istituzionale che riveste. Inoltre, secondo il primo cittadino, avrebbe messo tutti d'accordo, rendendo possibile l'alleanza PD 5 Stelle sul Campidoglio. Parole che in ogni caso suonano come una bocciatura e confermano che la candidatura di Giuseppe Conte a Siena è un boccone piuttosto indigesto per un'ampia parte del PD toscano. Soprattutto quello che governa con l'appoggio di Italia Viva e che si ritrova ai 5 Stelle all'opposizione.